Siamo noi i capi, siamo cattivi, siamo fedeli, mi trovo qui. Anche San Cernalo diventerà o cutuliano o anti-cutuliano, ma pensa che è cutuliano. Ma sui morti scherza sempre? I morti? No, no, i morti è una cosa seria. Anzi, è l'unica cosa seria, sono i morti comunque. Sono tanti, glieli addebitano tutti. A me no, non ci credo, non c'ho un mandato di cattura, ce l'ho pochi. A me che mi chiedeva a scelicare questo profondo, a me che mi spetta! A me che mi chiedeva, 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 grazie. Chi sostiene che Enzo Tortore è innocente? Non è che lo sostenga, è innocente. Se io eri il capo della NCO, più di me chi lo sa, ma non lo dico, lo potrei dire, adesso è morto potrei dire che Enzo Tortore era colpevole. No, è innocente e mi dispiace che parlano ancora di Enzo Tortore per far soffrire la figlia. Era totalmente, è strano Enzo Tortore. Però non dovete guardare, quella è una pagina sporca della Procura di Napoli, quell'arresto della NCO, quella retà, l'hanno fatto soltanto per raccoltare il processo civillo. Il processo risulta che i mafiosi pagarono 500 milioni per vedere la morte. Si è riformato, lo sapete tutti, ma la pagarono anche io, lo so anche io, i processi hanno pagato 500 più 500 per fermo a Mazzara. Perché? Sono ancora io, dottore. Dottore, io sono stato il primo e l'ultimo camorrista. Primo e dopo è tutto mafia comunque. Grazie. 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 Grazie.